Ben trovati, da più di vent'anni si dibatte, e lo stiamo facendo anche nelle ultime settimane, sulla non possibile cantierizzazione immediata della 275. Ma cosa c'è sotto? Di chi sono realmente le responsabilità? Al di là delle battaglie in sede amministrativa delle due aziende, anzi dei due gruppi che vorrebbero cantierizzare l'infrastruttura, principalmente la responsabilità della politica, con leggi poco chiare e infarcite anche da ulteriori interventi che vanno a creare ulteriore confusione, ma ne parlerò dopo di tutto ciò, ma principalmente ed anche per colpa di un ente, l'ANAS che in tempi giusti non ha avuto il coraggio di prendere decisioni e quindi di decidere in fatto di cantierizzazione attraverso azioni discutibili o anche attraverso interpretazione di gare d'appalto che hanno poi leso la comunità complessivamente, perché se ad un'azienda viene riconosciuto un risarcimento d'anni significa che la scelta dell'ANAS poteva non essere stata corretta e non sto dicendo che era non corretta la scelta di altra azienda rispetto a quella che avrebbe potuto portare a casa il risarcimento per la non costruzione della 275. Ma in tutti questi anni la politica, come dire, non ha svolto il ruolo incisivo rispetto all'ANAS che comunque è diretta emanazione della politica, dei partiti e dei governi stessi. Ora noi ci ritroviamo con continue azioni giudiziarie e amministrative dei colossi che potrebbero costruire la 275, ma principalmente con un'affermazione, quella della Fattotum, proprio dell'ANAS, la cosiddetta da manera che ha etichettato come la vergogna delle vergogne la possibile costruzione della 275. Cosa voleva dire la vergogna delle vergogne? Troppi interessi o per altri motivi una vergogna la 275? E alle ultime dichiarazioni anche del dottor Cantone, che presiede l'ANAC, l'autorità anticorruzione, che dice oggi quella strada è diventata inutile. Ma scusatemi, Cantone può tutto su tutto? Cantone può dire se la 275 debba essere considerata un'infrastruttura utile o inutile? Cantone nel 2015 ha posto una relazione dell'autorità anticorruzione, quella che abbiamo reso pubblica noi a Telerama e che poi è diventata, come dire, e ha avuto un clamore nazionale, attraverso delle rilevazioni. Ma è possibile che una raccomandazione che può fare questo ente creato dalla politica poi possa bloccare ogni cosa? Ha torto a ragione, attenzione. Ma questa raccomandazione poi, se la si fa diventare vincolante, così come nelle volontà dell'attuale governo e premier, apre a una serie di successivi giudizi e quindi tutto si blocca in questo Paese. Perché io non sono stato mai, come dire, sulla linea di Davigo, quando stigmatizza il comportamento di Cantone, cioè da Cantone si può andare a comprendere se qualsiasi decisione del Parlamento, anzi del Governo, sia corretto o meno, se qualsiasi decisione di un ente pubblico sia corretto o meno, ma dovrebbe esserci a garanzia della correttezza di ogni azione politico-amministrativa la legge, la legge dello Stato, la legge che se è disattesa diventa, anzi produce atti o azioni censurabili. E allora il problema sta nel nostro Paese, sta nel gruppo dirigente che non interpreta le leggi, anzi le usa a vantaggio di qualcosa o di qualcuno. Ed ecco perché poi alla fine un'autorità di fatto amministrativa e non giudiziaria in un Paese non normale come il nostro ha il potere di decidere le sorti del Paese stesso e di ogni territorio. A domani.